Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Cristo! Io sono T e io sto scorreggendo. Io sono Cristo. No, sai, no, no, li fai, li fai. Fermi tutti, fermi! Fermi, zitti, fermi. Allora, mettiamoci tutti in un punto col sangue. Ciao! Fermati, Alipax, fermati. Mettiamoci tutti in un punto e iniziamo, iniziamo. Aspettatemi, mi metto, mi metto la mia pasta. Midna, basta! Non, 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 no. Oddio, sono T i ragni di merda! Basta! Midna! Che cazzo? Ah, ma eri tu? Midna, no. Sì, inizia col video, dai. No, aspetta. Se vogliamo iniziare, dobbiamo stare fermi. Allora, ragazzi, fermi tutti. Mettiamoci tutti vicini, vicini, vicini. Allora, quanto sono qui. No, 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 Midna, no, no, no. ragazzi allora ragazzi dai ma sopra iniziamo che si sente male la voce ma aspetta ne manca una, mi dà chi è? come siete? dove sei? valley, dove sei? ecco vola aspettate mi sono incastrato ok dai sono pronto chat fa cup che devo fare la intro metti qua fai io 3, 2 ma sei uno stronzo, si non lo sapevi Sì sì no's nada fatto risaposto ma fare detto la ponte e mi ha fatto per ora ma il bolo di vedi a te basta ok basta 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 mi dà ok la la intro da fare ma ne mette se mette anche tu la psiche canale pats psiche canale si è come faccio tu è con il marco ecco guarda abbiamo tutti la psiche anche colori diversi che figo e allora io ce l'ho grigio ci sta no no ma è figo io ce l'ho verdone ma vabbè ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono t e siamo in ecco e siamo su bordelli su gmod con voi iscritti ragazzi intro che figata perchè sono partito ma ma oh sono diventato un diglett sono diventato un diglett eccomi qui ragazzi sono venuto il vostro soccorso ahahah grandissimo ora me lo prendo io ciao ciao io sono un ladro ciao 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 questo mi fa guardate qua ragazzi 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 arrivo subito no 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 fizzino argomento solo un modo uccidere il capo chi è il capo? sono io il capo? no è middena eccolo io non sono il capo sapevo che era il capo lui l'avevo sempre sospettato fino a quando sono andato giocato Gmod a culo ragazzi venite nei sotterrani sto per morire sto per morire ti salvo io ragazzi venite nei sotterrani però io sono ragazzi 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 dica no son morto ma che palle non uccidetevi ora ci siamo ammazzati a vicenda scambia bonti, abbiate, abbiate pazienza ragazzi ok asciugata ok ok basta questo mondo non ne 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 più abbiate ok guardate io mi prendo un bel veicolo e voi non avete neanche uno ehm io c'ho una jeep baggata nel muro data ragazzi volete stare sull'acqua ragazzo ragazzo sono sulla ferrari certo quella con la cinese guardate guardate aiuto 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 sto cercando di aiutarti aiuto 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 muori 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 resti in pizza resti in pizza resti in pizza aaaah ragazzi ragazzi o dolore orca la miseria neanche uno non è morto ah no una buona una uomo l'ho ucciso con il lancio lezzo madonna non sapevo oh cavolo no dai fai vado ragazzi ragazzi ah shit distruggiamoli tutti dai ragazzi sono come scoppisi gli alieni oh cazzo ahahah il prezzo ti aiuto io chi è rilassato ma che bene ragazze ragazzi guardate ragazzo io dormo oh cavolo oh cavolo tutto l'anticipato l'ho ucciso ehm ahahah cos'era ragazzo sono entrato a scopo oh no nooo aspetta oh grazie oddio oddio che cazzo è successo oh bello dove sto andando dove sto andando no ti voglio credere cosa è successo esattamente che cosa mi è successo guardatelo quanto è bello è meglio che tu non sappia che cosa è successo per evitare i cheese io che cosa è successo perché sei così magro oh noo ragazzi cio cio figlioli ciao figlioli voi siete chiamati a ahahah 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 ah no ahahah non ci posso credere ma dai scheletro scheletro a o oh 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 che melgiagine mi dicono guardate ragazzi allora osservate vedete questo è un midna insardinato lo vedete la gravity gun e fate così una volta una volta che sarà sottuto per bene mi sbattono per bene dopo che i nostri midna e i nostri alefax sono stati sbattuti per metteteli da parte prendete un recipiente qualsiasi anche una masca va bene ragazzi ho usato un'aria ragazzi dovete arrivare a fischiare e vai a fischiare che metterlo dentro alle box no 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 aspetta qua ci andrà il componente finale prima dobbiamo frullarlo ok per frullarlo useremo frullatore ragazzi sono lontano non riesco a uscire ragazzi mi sa che mi si è inciappato mi si è inciappato dai dai vi stessi tu la star facciamo il frullato ditti vabbè lascia no prima io ok dai prima ho bisogno di te ragazzi giochiamo un gioco trovate a io ma che lo trova vince vince io allora lo sai lo scari non lo so di basta aspetta usiamo la rotellina aiaaa ti ha ucciso ragazzi aspetta prendiamo la oh guarda 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 fai così fai così signor Alepax come si sente male mi sento un po' scosso ma non troppo non sto vomitando ah boh allora aio ciao ma ciao no petta petta ma petta ti uccide la madre aspetta un attimo ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatto ragazzi l'abbiamo messo dentro la pentola allora Alepax va bene anche sopra la pentola Alepax è dentro la pentola ragazzi non è che ci mettete il fuoco perché a me non ho mai scoperto allora petta petta ragazzi dopo che l'annate messo in pentola questa è la ricetta della nonna e la ricetta della nonna quindi funziona sempre Alepax guarda mia monna allora dovete cuocere a puntino Alepax guarda mia monna ragazzi il coso dobbiamo cuocere a puntino ecco dobbiamo cuocere e si sta cuocere no 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 aaaaa no no no! guardate mi pare che il soggetto è troppo vivo è sicuro è sicuro sono accorto al punto giusto devo entrare io io voglio essere cucinato io voglio essere cucinato allora no 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 ma ero dentro la pentola aspetta la metto è morta si ti voglio bene no non lo fare ti prego grazie come fa aiuto ecco qua ecco mettila giù io vi guardo molto attentamente sono laggiù sto facendo un bagno caldo come si può vedere forse un po troppo caldo però era rilassante come potete vedere mi ha rilassato tutti i nervi tutti i muscoli io direi di fare un regalo a ti grazie no veramente aspetta te lo faccio io ti regalo un cagnolino ti regalo un cagnonino ti vieni qua ti vieni qua ti vieni qua ti vieni qua no no mi te lo non toccato è di ti ti seriamente guarda cosa è ti guarda ti vieni qua vieni qua no qui c'è un regalo aprile adesso lo apro ciao ciao no è vuoto è vuoto è vuoto me lo prendo io bad ending ti tieni il piccione oh il piccione lo voglio voglio il piccione no è morto allora possiamo cucinare allora ragazzi come cucinare il piccione allora prendete questa vasca da bagno poi prendete il piccione il cadavere io direi allora fate spavare dentro il piccione mpc dove animal ecco qua eccolo è alla bra cotto appuntino ragazzi eccoli qua i piccioni poi dopo prendete il bazooka fate così no i o sparito doppia ah fuck midna dove sei no allora no no piccioni che devo vendicare allora midna ok basta seriamente midna guarda 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 questo piccione lo vedi si fai control per guardarlo meglio ti prego guardalo bene allora cioè tipo ahahah no sono ancora vivo vedi io sono ancora vivo no mi metto io la maglia e e e questa e tutti devono appuntare qualcuno tutti devono appuntare qualcuno si conta fino a tre e tutti sparano al tre e chi sopravvive vince non devi stare dietro di me devi stare in cerchio qua devi stare ecco qua ok in cerchio ragazzi allora chi conta io tutti devono mirare uno eh tutti devono mirare qualcuno io conto io uno due tre no no la casa no maledetto rifacciamo 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 facciamo un rituale vai no ritoroso va fanci no segnele faccio la canzoncita ah non hai appinto dis allora vai conto io 1 2 3 no 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 oh non vale il 2 no 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 sì ho vinto io ho vinto no vale allora 1 2 3 come se alle fax dovete son non si accende di vita non si accende di vita ok adesso faccio bene no 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 alle pax vieni qua allora cerchio cerchio c'è me 1 2 la casa è ferma 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 noooo nooo 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 ah i fucking ragedman rabbit eeeh allora ragazzi questo era tutto quello che potevamo fare per questo video speriamo che lo vado anche troppo no eh fati speriamo che vi siete divertiti nooo speriamo che vi siete divertiti come noi e noi ci vedremo nel prossimo video e ora facciamo una fine esplosiva come diciamo una fine esplosiva ah fine esplosiva nooo facciamo una fine esplosiva nooo facciamo una fine esplosiva salutate tutti quanti salutate anculo ciao 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 i teletubbies è l'ora dei teletubbies ciao ricordatevi di iscrivervi al mio canale triplo ciao 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 ciao